Alfa Romeo lancia la Milano, Neta arriva in Europa con la berlina EP41, Porsche presenta finalmente la nuova Macan esclusivamente elettrica, Maserati spoiler al grecale Folgore e la MC20, Opel anticipa il ritorno del frontiera e buongiorno amici elettronauti, benvenuti nelle news elettriche. E sì, sono tornato dalle ferie e ovviamente più carico che mai. Ho notato che avete apprezzato molto però la mia sostituta, eh furbacchioni? Ma purtroppo le cose belle si sa prima o poi finiscono, ma questa in particolare però no, non finisce qui, anzi comincia perché Marta e tutti gli altri miei collaboratori li troverete sul mio secolo. Il secondo canale seguendo questo QR code, questo qui, ho il link che trovate in descrizione o banalmente cercando elettronauti nella barra di ricerca di YouTube. Se andate a darci un'occhiata mi raccomando iscrivetevi al canale e guardate tutti i nostri video. E altra proposito, proprio ora è uscito il primissimo video nel mio braccio destro Ginger Black, un'analisi ben fatta sulla nuova Opel Astra elettrica. Andatelo a vedere alla fine di questo video e per non farci mancare anche un contatto un po' più personale ed informale, vi informo che sono ricominciate le live in onda ogni lunedì alle ore 21. Cominciamo velocissimi perché le news elettriche di questa settimana sono veramente tantissime. La prima news è che ufficialmente ora si ha una data di lancio della nuova Alfa Romeo Milano. Verrà presentata al pubblico il 10 aprile 2024 e sarà 100% elettrica. Al momento la vettura è al centro di prove di Balocco dove tutte le Alfa Romeo vengono perfezionate prima del lancio. Milano sarà la prima elettrica del marchio e molto probabilmente sarà basata sulla vista e rivista piattaforma di Stellantis. Quanto sareste disposti a sborsare per questa Alfa elettrica? Alla faccia di chi diceva che non sarebbe mai arrivata, ecco che Netta sembrerebbe ad un passo dall'arrivare in Europa con il suo nuovo modello EP41. Sotto il punto di vista tecnico questa berlina è disponibile in due versioni che garantiscono rispettivamente 230 cavalli sull'aste posteriore oppure 461 cavalli in combinata, quindi a trazione integrale. I pacchi batteria saranno due da 61,5 oppure 91 kWh. Chissà quale sarà e quando sarà deciso il suo nome ufficiale. Nel frattempo devo dire che non sembra affatto male, almeno sulla carta. Poi vedremo effettivamente se sarà anche competitiva per via del prezzo, della dogana, dei dazi eccetera eccetera. E se sarà in grado di essere anche poco energivora e quindi farci fare tanti tanti chilometri. Per ora l'autonomia non sembra essere ancora, infatti stata dichiarata. Ancora andiamo con una cinese. Il nuovo marchio LEVC ha avviato la produzione del suo nuovo van 100% elettrico. Si chiama L380, un po' come il Boeing, ed è basata sulla nuova piattaforma del gruppo Gili, chiamata SOA. Il primo prototipo è uscito dalla linea di montaggio il 25 gennaio dallo stabilimento di Yivyu e sembra essere davvero interessante. Anche qui per i dati tecnici dobbiamo aspettare ancora un po', però di design promette veramente molto molto bene. Durante il corso poi della settimana passata, su una strada vicino al circolo polare artico, è stato avvistato un nuovo modello che in molti credono essere il nuovo Opel Grandland 100% elettrico. basato sulla piattaforma, condivisa anche da Peugeot, è 3.8. Il pacco batteria sarà disponibile in diverse versioni, fino a 98 kWh. L'architettura sarà a 400 Volt ed i motori andranno dai 217 ai 387 CV. Molto interessante, non trovate? Ed ecco che finalmente Porsche ha svelato la nuova generazione del rivoluzionario SUV crossover Macan. Questa nuova generazione è stata proposta unicamente a motorizzazione e piattaforma elettrica. E al di là del design, a mio parere è fantastico, sotto il punto di vista tecnico abbiamo la nuova piattaforma PPE con architettura ad 800 Volt nativa, ingegnerizzata in collaborazione con Audi. Le varianti al momento disponibili sono due, 4 e Turbo. Sì, mantengono la nomenclatura Turbo, anche se di Turbo ormai non ce n'è. Comunque, entrambe sono a trazione integrale, la 4 a 408 CV, 650 Nm di coppia, 0 a 100 in 5,2 secondi e velocità massima di 220 km orari. La Turbo invece ha 639 CV, 1130 Nm di coppia, 0 a 100 in 3,3 secondi e velocità massima autolimitata di 260 km orari. Per entrambe le varianti il pacco batteria è da 100 kWh, ricaricabile a 270 kW in corrente continua, oppure ad 11 kW in corrente alternata. In DC il 10-80% verrà coperto in soli 20 minuti e le autonomie saranno rispettivamente di 613 km per il modello più piccolo e 591 per il modello invece un pochino più spinto. Prezzo? Beh, un po' altino forse, ma neanche troppo, dato che è una Porsche, 88.000 euro. Parlando poi di SUV, Maserati ha rilasciato nuove informazioni relative al nuovo grecale Folgore, per l'appunto 100% elettrico. Sarà disponibile in poche configurazioni, la più spinta sarà trazione integrale con 557 CV e 820 Nm di coppia, velocità massima di 220 km orari e 0 a 100 in 4,1 secondi. Il pacco batteria sarà da 105 kWh e l'autonomia in ciclo VLTP dovrebbe attestarsi sui 500 km. In DC questo pacco batteria potrà assorbire, si crede, fino a 150 kW, mentre è in nascito che Rai 22. Il prezzo per la variante elettrica dovrebbe partire da 127.000 euro. Voi a quale puntereste? Grecale o Macan? E sempre Maserati ha recentemente confermato l'arrivo della MC20 in allestimento completamente elettrico. Si stima arriverà su strada durante l'inizio del 2025 ed anche questa dovrebbe portare la sigla Folgore. Sotto il punto di vista tecnico al momento però nulla è ancora certo, quindi mi raccomando continuate a seguire le news elettriche non da ogni domenica alle 10 perché sicuramente torneremo sull'argomento. Alcuni di voi poi sicuramente si ricorderanno del mitico SUV di Opel, la Frontera. Ecco beh, dopo 15 anni Opel ha rilasciato questa immagine con la scritta Frontera e la silhouette della nuova versione. Molto probabilmente sarà elettrica. Verrà presentata verso fine 2024 e sono proprio curioso di vederla in versione definitiva. Parlando d'altro, Audi dal cilindro ha tirato fuori una nuova versione di Audi e-tron GT chiamata Ice Edition. Questa edizione limitata è stata sviluppata da Audi Sport per celebrare la sua nascita 41 anni fa. Prezzo di listino pari a 230.000 euro e tiratura limitatissima di 99 esemplari. E anche se il CEO di Toyota è scettico, sembra che durante quest'anno con grande probabilità presenterà il suo veicolo 100% elettrico più importante di tutti. Sarà un crossover a trazione integrale ed accessibile in termini di prezzo. In molti pensano potrebbe chiamarsi BZ2X, ma ancora non ha un nome in codice. Sarà lungo 4,3 metri ed avrà un design molto simile ad un incrocio tra BZ4X ed il nuovo CHR. E' inutile dire che potrebbe essere molto molto interessante. Toyota, dopo il flop di BZ4X, deve correre ai ripari e chissà se questo finalmente sarà il modello che cambierà le sorti dell'azienda nel reparto 100% elettrico. E attenzione a questa notizia. Sappiamo che praticamente da sempre Toyota detiene i record di vendite globali, ma durante il 2023 è stata sorpassata, pensate da chi? Beh, da Tesla. Infatti l'auto più venduta al mondo è elettrica ed è ovviamente Tesla Model Y. Pensate che ha totalizzato 1,23 milioni di nuove immatricolazioni. A secondo posto Toyota RAV4 con 1,07 milioni. E dal terzo scalino del podio c'è Corolla con 1,01 milioni di auto. Ottimo lavoro Tesla. E a proposito di Tesla ragazzi, come non ricordarvi che per qualsiasi problema abbia la vostra auto elettrica preferita, tutto il team degli elettronauti consiglia sempre di affidarsi a degli esperti in caso di problemi. Pertanto capita a Fagiolo il nostro sponsor Carrozzeria Musesti, il body shop ufficiale della provincia di Brescia. Troverete personale qualificato, professionale sorridente e ovviamente la carrozzeria è convenzionata con le maggiori assicurazioni disponibili sul mercato e in caso di bisogno è dotata anche di auto sostitutive. E se dite che vi mando io avrete anche un trattamento speciale. Andiamo ora a San Diego, colpita nei giorni scorsi da un forte nubifragio che ha causato l'allagamento di diverse strade cittadine. Ne sto parlando perché è diventato virale questo video pubblicato su X dove si vede un Volkswagen New Beetle soppassato da una Tesla Model 3 quasi completamente immersa in acqua. Che passa, esce dall'acqua e se ne va in tutta tranquillità. La tenuta stagna delle batterie e dei motori è così affidabile che attraversare brevi corsi d'acqua non fa paura per niente. Il consiglio è comunque quello di non farlo ma in caso di assoluta necessità sappiate che non dovrebbero esserci affatto problemi nel sommergere la batteria fino a 40 centimetri. Quindi attenzione ma insomma si può fare. Si può fare! E sempre parlando di Tesla dovete sapere che in Piemonte all'Outlet Village di Torino sono in fase di installazione le nuove colonnine di Tesla Supercharger di quarta generazione. Si tratta di 8 colonnine HPC in grado di erogare al momento 250 kilowatt limitati via software così da garantire 275 chilometri di autonomia in ciclo VLTP ricaricati in solamente 15 minuti. Non male. E chiudiamo le news elettriche della settimana con questa altra installazione in Piemonte diventata quasi virale grazie al suo prezzo. Il tutto è presso la stazione di Soland SRL dove un caricatore super fast di ABB o ABB? Chi ne sono? Dico ABB dai. Dove un caricatore super fast di ABB da 120 kilowatt su due prese fornisce energia ad un prezzo di consumo pari a 0,17 euro al kilowattora. Ciò significa in media 8,5 euro per un pieno. Niente male ABB. Ottimo lavoro. Rimanete quindi connessi cari amici elettronauti e prima di salutarci vi invito a diventare ufficialmente membri della nostra community iscrivendovi al canale, attivando la campanella e condividendo i video con i vostri amici e fatelo ovviamente anche con i video in uscita sul nostro secondo canale elettronauti. Ah e quasi dimenticavo vi aspetto anche su Instagram per continuare a scambiare opinione e divertirci insieme durante la settimana e per rimanere sempre aggiornati non dimenticate di unirvi al nostro nuovissimo canale Whatsapp. Sarà il luogo ideale per ricevere aggiornamenti esclusivi e partecipare a discussioni elettrizzanti. E se avete bisogno di un qualsiasi aiuto urgente, trovate sempre personale, qualificato e disponibile sul nostro canale Telegram, il canale Telegram più grande d'Italia per la mobilità elettrica in generale. Auguro quindi ad ognuno di voi una domenica carica di energia positiva e avventure entusiasmanti. Noi ci vediamo al prossimo video e ricordate, stay charged, stay connected e continuate a guidare il futuro. A presto e ancora, come sempre, buona domenica. Ci vediamo in live domani, eh? Alle 21. Ciao! Alfa Romeo lancia la Milano. Neta arriva in Europa con la bellina. È proprio bellina. E sono proprio curioso di vederla in versione. E sono proprio curioso di vederla in versione. E' partito il... E' partito il robot aspira tutto. E sono proprio curioso... E dove lo scriverete?